Ciao a tutti per youtube In questo video vi faccio vedere i regali della Befana che ho ricevuto ieri Intanto auguro a tutte le Befane anche se è in ritardo Allora, faccio vedere I regali sono questi Allora, iniziamo dal primo Allora, questi smalti, questi due smalti qua Che vedete che sono della Essence Ed una è rossa Poi una è brillantinata Questo qua Ok E poi c'è questo qua Più scuro diciamo E sono della Essence Come vedete Poi Queste qua Che sono delle calze Della Polaris Con l'antemoda E sono queste Con l'antemoda Che sono Nere Con Con questi Con questo disegno Qua Ovviamente Ha delle robe Comunque questo Poi Questo Che è un bagno Cosa è? Bagno Bagno E doccia Per schiume Questo che è bellissimo Ha questo formato Bella Veramente fantastico Poi Il piegaciglia Che mi hanno regalato Sempre Delle mie cugine Così Solo che Io ce l'ho Ne ho uno Solo che Praticamente Non riesco a piegarle Bene Con quello che ho io E mi hanno regalato Questo Che è della Ab Royal Beauty Tutto qua Poi Questo Questo Mascara qua Della New York Color Mascara Che poi Vi farò Vedere Come sarà Comunque Lo cercavo Comunque Questo qua Lo volevo Alla fine Me l'hanno regalato Poi Questa tazza Vabbè Questa tazza Qua Ce l'avevo Già Adesso Vi faccio vedere Nel taglio Con dei dolcini Tra cui Questi qua Che alcuni Ne ho già mangiati Poi Il King Cereali Altri Dolcini Diciamo Che Li ho messi qua Perché non sapevo Veramente Dove Metterli Quindi Ho preso Questa Questa Tazzina Qua Che Che Praticamente L'hanno comprata In Corsica Poi Queste Ho un paio Di calze Che sono Allora Queste qua Che sono Praticamente Nera Nera Sì Nera Le ho parlate Praticamente Perché Sanno tutti I miei parenti Che amo Le calze Le ho parlate Poi Queste qua Che mi ha regalato Mia cognata Le ho parlate E poi Queste qua Infine Che sono Di questo verde Qua Con Questi Questi Disegni Qua Questo motivo Qua Che sicuramente Sono bellissime Cioè Si vede già E Niente Questi qua Sono i regali Le Le calze Io ho tolto Già Queste qua Quelle che vi ho fatto Vedere Sono della OEMAN Ho cercato Così Perché Praticamente Ho buttato Già Tutte Le scatole Diciamo Tutte Le Sì Le scatole E Praticamente Adesso Le stavo Aggiustando Adesso Aggiusto Tutto E niente Ancora Buona Befana A tutti A tutte A tutte Le befana Diciamo E niente Altro Non mi hanno Invece Tutti Niente Un bacione Ciao a tutti